La motivazione utilizzata da Obama e che ora ha fatto scattare la necessità di intervenire. Nel frattempo il suo ministro degli esteri Kerry si sta dando da fare per ottenere il massimo supporto possibile dalle nazioni alleate per un intervento militare in Siria. Dal canto suo la propaganda televisiva continua a cercare di convincere gli americani della necessità di aiutare i ribelli mostrandoli come una banda di poveracci male armati che hanno un disperato bisogno di aiuto. Mentre il famoso contestatore pacifista degli anni 70 John Kerry e il premio Nobel per la pace Barack Obama si affannano a cercare alleati per invadere la Siria è esplosa però una piccola bomba mediatica che rischia di mettere seriamente in difficoltà il loro progetto di intervento militare. Mentre tutti parlano della ferocia inumana del crudele dittatore Assad è saltato fuori un video in cui uno dei capi dei ribelli Abu Sakhar compie un gesto che è riuscito persino a scandalizzare Glenn Beck uno dei conservatori più estremi della già estremissima Fox Television. This is a very graphic video of Commander Abu Sakhar He is in this video He has just killed a Syrian military member This is a rebel that is now cutting the chest open of that Syrian He takes out his liver and his heart A questo punto diventa difficile per chiunque sostenere che si va in Siria per far rispettare i diritti umani dei cittadini innocenti quando per farlo bisognerebbe armare gente che i diritti umani non sa nemmeno cosa siano. Nonostante questo nel suo incontro con Putin alla vigilia dell'ultimo G8 il primo ministro britannico Cameron ha continuato a ripetere il ritornello della propaganda occidentale già utilizzato con successo contro Saddam Hussein e contro Gheddafi. I believe that Assad is responsible for tearing his country apart and that to end Siria's nightmare he has to go The new evidence this week of how the regime is gassing its people makes that clearer than ever Ma questa volta Putin aveva pronta una risposta sorprendente I believe you will not deny that the blood is on the hands of the both parties of both of the parties and there's always a question who is to be blamed for that? Who is to blame? I believe you will not deny the fact that one hardly should back those who kills their enemies Il video purtroppo finisce qui ma dall'espressione di Cameron si capisce chiaramente che non si aspettava una presa di posizione così netta da parte di Putin Cameron infatti ha subito fatto retromarcia come leggiamo dall'articolo del Telegraph e ha detto di non avere ancora deciso se seguire o meno gli americani nella decisione di armare i ribelli siriani ma Putin è stato categorico dichiarando che qualunque richiesta di utilizzare una no-fly zone sul territorio siriano verrà bocciata dalla Russia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU La vera linea rossa quindi l'ha tracciata Putin, non Obama Nel frattempo il sindaco di Londra Boris Johnson si è schierato apertamente contro l'armamento dei ribelli siriani Anche Angela Merkel ha messo in guardia gli Stati Uniti dall'armare questi ribelli dicendo che si verrebbe a creare una situazione estremamente pericolosa per tutti E il governo italiano cosa dice? Naturalmente tace Noi siamo troppo impegnati a versare il nostro obolo annuale ai banchieri internazionali per poterci permettere di avere voce in capitolo